Buonasera a tutti, porto il saluto del comune e del casinò di Sanremo al dottor Antonio Caprari e al gentile pubblico presente. Il dottor Caprari in casa si può definire un amico di Sanremo che spesso ha colto l'invito del casinò e della città di Sanremo per presentare i suoi lavori o per partecipare a importanti eventi. Lo ricordiamo, brillante e arguto conduttore della serata dedicata ai finalisti del premio strega, proprio in questo teatro. Oggi avremo il piacere di ascoltarlo nella sua resta di scrittore, di giornalista e di profondo conoscitore della cultura e della tradizione inglese, evidenziando sempre la magia che amanta la casa reale e rapporto non sempre facile con la società civile. In questo volume ha ripercorso l'infanzia dei futuri regnanti, o eredi al trono, riscoprendo forse proprio nell'educazione le basi delle scelte, non sempre ottimali, compiuti nella loro esistenza. Grazie quindi al casinò di questo pomeriggio letterario in linea con la grande tradizione dei martedì letterari. ricordo che questo incontro è inserito nel piano di formazione dei docenti e quindi saluto in particolare anche gli insegnanti che sono qui presenti. Grazie a tutti, buona salute.